Ehi loco, ehi Buddy, ehi Nico, oggi ho una sorpresa enorme per voi. Cosa? Eh, eh, ragazzi, queste cose inaspettate. Allora, prendete intanto i soldi. Vai, devo prendere le armature. Cosa c'è? La sorpresa prima voglio. Sì, sì, la sorpresa è nelle armature. Entra, Buddy, entra, vai a destra. Guardate cosa ho creato. Che belle. Ho creato le nostre armature. Perché costo meno di tutti? Perché sei più scarso. Quella di Buddy da più sei di armatura. Quella di Marci da cinque di armatura. Quella di Loco da tre. E no, quella di Loco da quattro e la tua da tre. Perché? Chi ha deciso questa cosa? Non sono in raccordo. Non l'ha deciso nessuno, l'ho fatto io totalmente a caso, quindi non prendertela. Allora, uscite. No, 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 uscite, uscite, uscite. Eh no, non esiste questa cosa. Uffa, uffa. Non esiste questa cosa, vai. Fer, fer, ferra. Allora, ragazzi, che cosa facciamo? Scegliamo la mia o vado a scegliere quella di qualcun altro? Io non prendo mai l'armatura più potente, quindi quasi quasi vado a prendermi per questa volta l'armatura di Buddy, l'armatura più potente. Oh, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto. Troppo mi rimangono pochi soldi per i Lucky Block, porca miseria. Quanti no? Solo 12. Vabbè dai, 12 comunque secondo me possono andare bene. Allora, il prossimo. Io, 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 ho compreso subito, compro te, compro te. Hai comprato me? Cioè, non è che sei forte. Buddy, tocca a te, vieni. Vai, andiamo. Io prendo quella di Loco, prendo. Vabbè, per forza, vogliamo scelte diverse. Dai, ci sta, vieni, vieni. Eh, ci sta, bello, bello. Ma perché io quella più scarsa? Beh, Loco, senti, tu prendi sempre le armi più forti, per una volta prendi quella più scarsa, scusami, eh. Sono d'accordo con Buddy. Comunque, la ruota di Loco, posso dirvi una cosa? Eh? Guardate quanto è bella, è proprio bella. Cioè, sta proprio bene sta. Sì, sono bellissimo. Oh, te lo guardo tre. Ecco, ti conviene ridarmi i miei lucky block, sennò picchio Ernesto. Te lo ridatti, su. Andiamo fuori, ragazzi. Io ne ho 12. Scusa, posso dire che la mia armatura è veramente brutta. È vero, però... È proprio simbolo. Allora, io ne ho 12. Chi ne ha di più? Io ne ho 18. Come ne ho 18, Buddy? Eh sì, quant'è ne ho 21, Buddy? Io ho 21, sì. Vabbè, io vado. Vabbè, ragazzi, mi è uscito il Gauss Rifle. Ma me è il Laser Rifle. Ragazzi, il Pulse Rifle. Ragazzi, io ho 8.000. Il Nuclear Death Ray. Nuclear Death Ray anch'io. Oh, due minigun. Oh, due minigun. Oh, due minigun. Ah, qua non c'è la regola del solo poche armi, perché abbiamo le armature troppo differenti. Ok. Quindi, uh, il Combat Boot Me. Ok. Dai, non ne trovo mai. Ma veramente? Allora. PdV, AS50. Guarda cosa ho addosso. No. No, pure in corso. Aspettate che arrivo anch'io. Vabbè, però ha senso. Aspetta, aspetta, guarda cosa ho addosso. Vabbè, altro. No, non vale. Eh, no, non vale. No, questa cosa la facciamo e non va, raga, perché è troppo più potente. E poi, due altre due uguali. Dammi la mia, loco. Ma le armi? Le armi no. Eh, allora ragazzi. Aspetta, qua c'è una cosa inaspettata mai successa. Eh, me l'avete detto nei commenti che l'altra volta puoi tenere solo un pezzo, perché sennò poi si va a perdere il video, no? Il fattore del video, cavolo. Esatto, dai. Cosa tieni, loco? Cosa tieni? Ovviamente quella più forte. Un'armatura. Quindi i piedini? No. No, il più forte è questo che ne mette, in realtà. Vabbè. In teoria sì, però. 3, 2, 1, via! No, dai, un'altra è già fatto. Ma quanto mi ha tolto? Dove siete? Ma, raga, ma è illegale quello che ha fatto. C'è già morto. No, ma cosa sta usando? No, raga! Emme. No, dai, no, non iniziamo con la minigun, vi prego. Emme. Cosa ha fatto quell'altro? Puoi riprendersi sotto, ma è caduto. No, no, non hai capito, guarda, è inspiegabile quello che vi è successo. E me lo riguarderò io. Non lo so, vabbè. Quella chi è? No, ma quanto mi hai tolto? No, vai via, vai via, vai via. Non è quel momento, no! No, dai, però non vale sciogliarmi. In tutto ciò, loco, scusate. Non lo so, dov'è? Ah, è lì, l'ho visto. No, quello è Buddy. Dov'è? Dov'è? Dov'è, loco? Loco è dove tappo il giro. Aia, 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 aia. Ma chi è? Ma, ma è chi? Di Marci? Sì, è Marci, è Marci. Io lo sto inseguendo. Non lo so, qualcuno mi ha lasciato con un cuore. Eh, chi vuoi che sia? Non lo so, nel dubbio vado via. Aia, 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 dove siete, dove siete? Oh, no, su. Poi vado giù. Buddy, quanta vita hai? No, mamma mia, oltale. No, aspettate, ma no, ti lascio, ti lascio, ti lascio, ti lascio. Aspetta, l'ho ucciso già tre volte, uccidiamolo, uccidiamo. Ma l'ho, non... È lì, lo vedo, è lui. Raga, non mi ricarica l'arma, wait un attimino, per cortesia. Ma è loco, guarda loco che è lì, fermo. Non mi ricarica l'arma. Opa, l'hai. No, 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 firmo, no, Buddy, no, non fa. Com'è che si riloda l'arma con l'R? L'R. Perché non me lo fa? L'R. Non avrai colpi. Ah, aspettate. Vuoi che te ne dà un po'? No, no, te ne faccio io. Nuclear death ray, illegale. Ci sono... NICO! NOOOOO! No, la lotta era la volta. Ma sono io, Nico, ah! Ma in che senso l'ho, che è stato devastato da Marci? Non so se non lo capito. Scusate, Manico, quanta vita ha, scusate. Raga, sono appena tornato perché sono morto. Perché no? Se non lo dici, cioè lui se ne va senza dirle, poi pretende puttare. Ah, perché io lo sapevo che entrava la bestia. Ho capito, ho capito. Ragazzi, la bestia intendeva il gatto, ovviamente. Esatto. No, insomma. Vatti, fattene via, per favore. Nico, ti sciolgo, no! Finiti qua! E invece dove sciogli? Infatti, mi sento così solo. Ragazzi, il loco è immortale. No, Marci, non mi hai beccato una volta. No, ti ho beccato col nuclear. Marci ha anche una volta. Ma io sto già finendo il rampino, raga. Forse lo sto usando male. No, 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 chi è? Dove, quando? Eh, probabilmente... Ma dove? Da dove? Non ti vedo! Dove? Eh, non lo so. Raga, loco è immortale! Ma da dove? Raga! Un po' più sinistra? Raga, non ho più l'armatura. Ma come non hai più l'armatura? Un po' più l'armatura. Ahia! Mi sta bene. Ma veramente non hai più l'armatura, loco? Non l'ho più, ecco, finita tutta. Vabbè, puoi utilizzare quelle che avevi. Ma Marci è il silenzioso perché sta tryhardando. Non lo so, mi ha tolto 8 cuori con quell'arma. Raga, non riesco a andarmene via. Oh, giuro, non riesco a andarmene via, raga. Dove siete? Ma via da dove, scusa? Via da qui. Io l'ho perso. Via da qui. Dove sei? No, sto morrendo in una caduta. Ok. No, occupato. Occupato, occupato, occupato. Loco non mi ha visto. Loco. Scappa, loco, scappa. No, 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 no. No, ho sbagliato. E ho sbagliato a fare la cosa, scusate. No, non mi ha posato il rampino. Sì, sì, sì. Si è quello? Mamma mia, arrivo come un trenino, aspettatemi. Ma che è? No, questa è la com'è, mamma. Dai, no, no, dai, 2-21. No. Che due costruzioni? Era badio che anche te mi sparava. Non ti sei accorto? No. Sì, però qui tra nuclear death ray e cose, cioè, è infattibile, eh. Mamma mia. Ti vedo che cacca. Ti voglio lasci, è troppo pronto. Anche stavolta, anche stavolta, arrivo ultimo. No, ma... È proprio così, tanto per, eh. Non mi do qui su. Dai, ma colpi di mullo non gli fai niente! Ma... Ma in che senso, loco, mi ha shottato? Io? Ma ti ho ucciso, io ti ho ucciso. No, io ho ucciso, loco. Ma ho un shottato. Sono male. Ma cosa ridi? Ah, il Gauss. E da dove mi colpiscono? Eh, loco, saprai. No, ma c'è uno scherzo, non so, ma era uno scherzo, era uno scherzo. A Natale puoi fare scherzi che non puoi fare. Dai, dai. Nico è stato meltato malissimo, sì. Mi si è buggato il rampino, yeah. Dove si, dove si, dove si, dove si, dove si? Lo so. Lo so. Aiuto! Alp! Ma mi si è bugato. No, dai, per favore! Per favore! Ok, ok, ma di me. Buddy l'armor, ti sei dimenticato di indossarla, per caso? No, per caso è stata distrutta tutta, perché la tua faceva scherzo. Ma non è? Ma niente, avevo quella di loco, allora, ancora peggio. Un cobalt eliminato. No, me l'avevo ucciso apposto. Ah, ya! E mi ha attaccato. Non mi posso affa- No, ti prego, pausa. Ma c'è a te, mannaggia a te! Ma? No, nico, vieni qua. Loco, ha sempre giusto da dietro, ma tu giurai con me. Nico, pace, nico, pace. No, no, pace, pace. Raga, no, nico, io e te siamo in pace, andiamo a uccidere loco. Raga, se loco vi ammazza, avete perso entrambi. Non è vero, no, no. Ma male che l'hai bruciata. No, nico, dai! NICO! 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 No, no, non l'accetto! Marci, ti giuro, stavo sparando a loco, loco è morto e il proiettile della minigare è andato su di te. No, raga, io nella vita penso che mi siano successe tante cose, ma come questa, mai.